30 anni di reclusione, in pratica la conferma della sentenza di primo grado e la richiesta del Procuratore Generale al processo di appello a carico di Daniele Lodato, 34 anni di Canicattì, imputato dell'omicidio del 22enne Marco Vinci, ucciso a coltellate il 17 giugno del 2017 davanti ad un pub di Piazza San Domenico. Il giudice per udienze preliminari del Tribunale di Egrigento, Alfonso Malato, il 25 giugno dell'anno scorso lo ha condannato a 30 anni di reclusione, il massimo della pena, la stessa chiesta dal Pubblico Ministero Alessandra Russo, escludendo l'aggravante della premeditazione. Il difensore, l'avvocato Angela Porcello, ha impugnato il verdetto e il processo è approdato in corte di assise di appello con il primo atto, vale a dire la requisitoria del Procuratore. L'omicidio è avvenuto al culmine di una banale lite, avvenuta poco prima dentro un pub. Lodato, dopo aver avuto una colluttazione con Vinci e con alcuni suoi amici, si sarebbe allontanato con lo scooter per prendere l'auto sulla quale c'era un coltello e consumare la vendetta. Vinci, che nel frattempo si era allontanato di alcuni metri e si trovava nel piazzale vicino al posteggio, venne colpito con un vendente allo stomaco e morì poco dopo. Lodato, nell'interrogatorio di convalida dell'arresto, aveva sostanzialmente ammesso i fatti, aggiungendo che era stato aggredito. Una versione che al processo ha tentato di rafforzare, negando di essere rientrato per prendere il coltello. Sono tornato per accompagnare un amico a casa e spiegando che era stato massacrato di botte.